Musica 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 Basso Ci abbina qui un attimo Noi abbiamo un corpo di ballo dei rappers il primo pezzo proprio la sigla del programma è su questo tema rap insomma sono tutti ragazzi immigrati uno se ne è dovuto andare perché gli avevano dato il foglio di via quindi abbiamo dovuto sostituire l'ultimo è sicuramente un tema fondamentale importante che tratteremo non hanno spazio nessuna intenzione veramente di fare qualcosa però è un tema sicuramente sicuramente importante e io è previsto che gli diamo spazio Musica 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 Musica